Sono tempi dal cielo chiuso e quel che oggi sembra grandezza non è che prepotenza. Conosci quest'uomo? D'annunzio è come un dente guasto. O lo si ricopre d'oro o lo si stirpa. So benissimo di essere spiato, controllato. Raccoglierà informazioni per noi. Niente deve essere tralasciato. Neanche le storielle piccanti. Raccontali che una volta d'annunzio si è portato a casa una fruttivendola della zona. Mi ha chiesto di stendersi nudo sul pianoforte. Si è messo a quattro zappe e ha cominciato a inseguire la fruttivendola. Mi pare che presto ci sarà la guerra. Di ogni idea bella se ne realizza sempre una versione più cupa. Questa è la fine di tutto. Non sapevamo quel che eravamo. Non sapevamo quel che volevamo. Ed ecco che sappiamo quel che siamo e quello che vogliamo.